Un nuovo drone che può sollevare le sedie e volare per 30 minuti a 60 km orari si chiama PD6B, ultimo gioiello della società nipponica ProDron. I due artigli lo fanno sembrare un'aquila che si aggira alla ricerca della sua preda, è infatti in grado di sollevare pesi e percorrere lunghe distanze e secondo i produttori può anche fare una serie di operazioni durante il volo e in luoghi che potrebbero essere pericolosi per l'uomo.